Salve Friusuniani, io sono Barac e sono molto contento da condividere questa idea e la pratica indietro là, scuola, capovolta. Per capire cos'è, la cosa migliore è fare una lezione capovolta, capovoltata, perché praticamente noi vediamo venerdì e cominciamo a lavorare. Gli obiettivi sono che comprendi le idee che stanno indietro della classe capovolta, crea un piano per provare a capovolgere una classe tramite questi passi. Prima riconosci gli strumenti che devi utilizzare per il tuo piano, poi identifica le abilità o gli strumenti che devi imparare ancora e individuare le possibili sfide nel tuo contesto e trova possibili soluzioni. Adesso vedete un film, un clip dove faccio vedere cosa sono le idee con alcune cose pratiche che voi potete già fare a casa. Mi raccomando, dopo la cosa importante è rispondere alla domanda e arrivare pronti per l'incontro di venerdì. Allora, come abbiamo visto, possiamo fare lezione proprio con una video o per esempio preparare presentazione che va sul video anche quello e i studenti possono ascoltare a casa. Adesso parliamo sulla scuola capovolta, le idee e soprattutto per la pratica. Iniziamo con la cosa tradizionale. Purtroppo tanti scuole, non tutti, e tanti insegnanti e studenti sono abituati che quando vai alla scuola praticamente c'è un insegnante che insegna, che fa una lezione, un lecture in inglese, che i studenti come vedete qua ne sono seduti e magari non sono anche concentrati, hanno appena finito una lezione di sport, pensano delle altre cose. Però questa è la comunicazione, insegnanti avanti agli studenti. La comunicazione, anche se l'insegnante pensa che lui parla per tutti, è molto limitato, soprattutto quelli studenti che sono più bravi o che sono meno timidi, che vogliono partecipare. E anche se lui fa attività più di gruppi di discussione, tante tempo della lezione è dedicato per presentare argomenti, per presentare informazione. Poi i studenti vanno a casa. Cosa fanno a casa? Fanno i compiti. I insegnanti preparano materiali, preparano domande, alcune sono abbastanza difficili per analisi, per capire se hanno capito la lezione. Infatti questa parte è una parte importante e forse i studenti devono avere molto più aiuto invece nella scuola che solo ascoltano all'insegnante. Infatti studenti che sono bravi sono soprattutto quelli che hanno genitori o qualcuno a casa che può seguire con i compiti da casa e aiutare, che praticamente sarebbe un lavoro di insegnante. Nella classe capovolta è molto semplice. Usiamo mezzi, soprattutto tecnologici, però anche altre, che l'insegnante prepara materiali da vedere da casa. Allora i compiti dei studenti arrivano adesso da casa, devono ascoltare per la lezione e poi arrivano a classe, proprio dove c'è la scuola, dove lavorano, dove l'insegnante invece di fare lezione arriva a aiutare. Magari ci sono già tante scuole, soprattutto a lingue, che lavorano così, però in generale questo è un concetto diciamo abbastanza avanti per quelli nella scuola pubblico e soprattutto per materiali di scienza dove c'è conoscenza e poi solvere problemi. Allora questa è l'idea generale che secondo me è abbastanza semplice. Parliamo un po' di benefici. Se voi potete pensare adesso anche fare una pausa, pensare ma con questo sistema che io insegno da casa, preparo i materiali, i bambini ascoltano da casa loro, cosa sono i benefici? Dopo che avete pensato potete andare con i video avanti, un esempio per esempio come fare lezione tipo così. Io dico per esempio che gli studenti possono ascoltare lezioni quando sono pronti. Quando siete stanchi adesso, non volete ascoltare, potrete fare magari un altro momento, che nella scuola tradizionale non c'è questa scelta. Studenti che hanno difficoltà da capire, a volte scusa non ho sentito, puoi ripetere, possono ripetere quando vogliono, senza disturbare gli altri studenti che vogliono andare avanti, perdono un po' la pazienza dopo che l'insegnante spiega troppo volte. La cosa importante è che aumenti il senso di responsabilità del studente, perché devi andare a casa e cercare di capire le cose base a casa. Non puoi dire non ho capito i compiti, adesso gli insegnanti per piacere mi aiuti. Devi almeno avere questa responsabilità di ascoltare la lezione al tempo tuo. Però la cosa forse principale per gli insegnanti è che adesso gli insegnanti possono creare materiali con difficoltà e complessità e variabili. Fare una spiegazione per chi ha un po' difficoltà, poi quelli che sono più bravi o che hanno già capito, vogliono essere più in profondità, andare più in profondità, possono anche ascoltare per materiali fatti per loro, ovviamente al costo di lavoro di insegnante, però secondo me ci sta. Un'altra cosa fondamentale secondo me è che adesso con questo sistema puoi aumentare i tempi di contatto significativi con i studenti durante la lezione. Adesso non perdi tempo da spiegare un concetto o una cosa. Hai fatto prima, hanno ascoltato, adesso puoi diffondere, capire cosa hanno capito i studenti, cosa non ha capito. Vuol dire che avete molto più tempo come insegnanti per creare discussioni in relazioni di problemi complessi, analisi e soprattutto progetti creativi. Immagino che nelle scuole di lingue non c'è tanto di questi problemi, però io penso anche delle altre materie soprattutto nelle scuole pubblico. Allora, la cosa molto importante è gli strumenti perché per fare lezioni, per dare questa possibilità ai studenti devi creare materiali soprattutto digitali, sia online e quelli offline. Questa forse sarà una domanda che fate tanti, capisco. Parliamo un po' dopo cosa è la differenza, cosa sono le problematiche. Do un po' esempi. Per esempio, adesso ho fatto un'azione che a parte Power Point Presentation, ci sono tante presentazioni, l'insegnante deve sapere come fare, come anche registrare. Puoi usare un po' di software di editing, per esempio Movie Maker, un po' vecchio Lightworks e altre, per preparare questi materiali. Per esempio, videocamera che ho usato all'inizio di questo video lezione, per fare vedere che potete praticamente anche fare con cellulare o fare avanti a lavagna, in classe tradizionale e fare come lezione normale. Poi ovviamente dovete usare YouTube per mettere questa informazione su, con annondazione, potete anche usare altri attrezzi, però quello dopo. Documenti, per esempio Google Docs e soprattutto Forms, quelli che fanno i quiz, che mi raccomando, alla fine che avete fatto questo video, uso per un esempio, così rispondete per domande che mi serve, per venerdì, per l'incontro da venerdì. Se avete voi altri attrezzi, strumenti che possono creare materiali digitali, questo sarebbe bellissimo ascoltare a venerdì, se avete idea o esperienze con altre cose. Poi bisogna avere una piattaforma per comunicare tra te e i tuoi studenti su base individuale e anche di gruppo. Vuol dire che, per esempio, creare Google, è un site di Google, come ho fatto adesso. Il sito dove ho messo la materiale è creato gratuitamente su Google. Potete anche fare un blog, un'altra maniera di parlare, di mettere materiali, discutere con i studenti. Un'altra cosa che in questa prima seduta, diciamo, che non parlo troppo perché è un po' complicato, l'idea di Wikimedia, come la Wikipedia, che anche gli studenti, gli utenti di questa piattaforma possono inserire materiali. Questo è molto importante e cambia un po' anche il discorso e il modo in cui potete lavorare. È molto più interattivo, invece da solo mettere i vostri materiali su un sito o sul blog. Però questo è davvero una cosa pesante per l'altro momento. Forse voi usate un'altra piattaforma. Scrivete adesso per vedere se avete idea, così non scappa. Poi parleremo anche a venerdì e anche in quiz. Poi la cosa importante è che ovviamente ci sono ostacoli. La teoria, la pratica, tante volte sono un po' lantani. Una domanda che chiedono spesso. Oggi è meno difficile, però anche oggi ci sono quelli che non hanno accesso online affidabile. Allora, cosa fate con loro? Prima voglio che voi pensate, prima di andare avanti con questo video, potete anche schiacciare pausa e pensare, perché questa è una cosa fondamentale. Poi do i miei esempi. Per esempio, questa lezione potevo anche registrare e poi mettere su USB DVD. Ovviamente la prima lezione non potevo incontrare prima, allora ho messo solo online. Però per il futuro, se qualcuno ha problemi, posso anche fare una lezione così, dare a casa. Se ci sono bambini che non hanno PC a casa o hanno un strumento digitale per vedere anche materiali offline, è una bella domanda se la scuola vuole investire per alcuni iPad e tablet che possono dare in prestito. Poi le cose che più in scuole pubbliche, che gli studenti non sono abituati a prendere questa responsabilità. Tanti vengono a casa, non fanno i compiti a casa, però qua è molto fondamentale che ascoltano prima di andare alla scuola a fare le attività più creative. Cosa potete fare? Pensate voi come incoraggiare, non fare terrorismo, però come potete usare strumenti, strategia per coinvolgere gli studenti di più. Per esempio, potete fare verifichi online. Adesso facciamo online, dopo questa lezione, mi chiedo che fate rispondere a un po' di domande, di quiz, così almeno lo so se avete visto o no. Poi, se davvero è necessario, potete anche usare questi risultati come un biglietto di entrata all'attività a scuola. Se non hai guardato, mi dispiace, non puoi partecipare in questa attività, puoi stare in un angolo alla classe e guardare il video che dovevi guardare prima. Però auguro che con la scuola italiana questi non sono i problemi. Quando gli studenti sono motivati, ovviamente che sia un attrezzo e soprattutto con la pandemia potete anche fare alcune cose da remote. Allora, cosa facciamo adesso? Ti do campiti a casa. Spero che non era troppo lungo, però pensate all'idea generale. Come potete voi applicare nelle vostre azioni quegli aspetti che ispirano? Come pensate di poter verificare in questo metodo? Cioè, soprattutto se avete contesto diverso, fate la scienza, fate le lingue, fate la storia. Ovviamente il tipo di attività che fate sarebbe un po' diverso, però il concetto è uguale. Forse a questo non vi piace tanto, o anche affatto, però questo anche è una cosa buona, è molto apprezzato. Formulate i vostri pensieri per venerdì e così facciamo anche già una discussione più profonda. Allora, come ti senti usare strumenti tecnologici? Perché è molto complesso, ci sono tante cose. Alcune sono, forse ci sono in area che sei particolarmente debole o forte e potete anche condividere con gli altri. E questo ti faccio anche domande sul quiz. Allora, per vedere gli strumenti potete già andare al sito qua che c'è il legamento, pagina strumenti. E potete già iniziare adesso, imparare o forse anche mettere alcune idee già in pratica. Aprite un sito, fate un video. Ovviamente non avete tante per venerdì, però forse potete fare. Allora, la cosa fondamentale, per piacere rispondete alle quiz di pagina di introduzione che è qua. E poi ci sentiamo venerdì. Quindi, secondo me, questo è fine lezione. Ci vediamo!